Giorgio Bracciani, giornalista e scrittore, ci è venuto a trovare ad Exa 2013 per raccontarci le sue ultime delizie. Sentiamo dalla sua viva voce cosa ha da dirci. Allora, il primo libro ha un titolo intrigante, le beccacce sono di passo, le donne sono stanziali. Perché questo titolo? Perché nella mia ormai lontana gioventù, quando andavo all'università, ho conosciuto una ragazza di nome Renata che mi aveva promesso che ci saremmo visti il sabato successivo, era venerdì. Tornando a casa mi telefonò il mio montagnin dalla montagna e mi disse Giorgio, sono arrivate le beccacce, vieni su domani che ci divertiamo. Allora sorse il dubbio, ma domani vado a beccacce o vado con Renata? No, vado a beccacce, perché le beccacce sono di passo e Renata la trovo sempre, le donne sono stanziali. Questa non è assolutamente male. E la seconda perla invece? Si chiama beccacce perché? E vorrebbe risolvere il problema di come mai noi beccacciai siamo così appassionati, così fanatici. Vi leggo qual è la mia filosofia nello scrivere i libri, che è se non hai ricordi, sogni, fantasie, non hai nulla. Cosa ho voluto dire con questa lapidaria considerazione? Che in un racconto della tua vita o in quella di altri non necessariamente tutto debba essere vero. In altre parole, questi miei racconti riflettono proprio questa scelta di base. Pertanto dirò a chi legge di non perdersi dietro la solita domanda. Ma è tutto vero? Ma piuttosto di lasciarsi andare al mondo dei sogni e dell'immaginario. Perciò avverto il mio amico lettore che quanto è scritto, quanto è scritto, è rigorosamente vero, in parte vero, a volte inventato. Ognuno lo valuterà come più gli piace. Ringraziamo Giorgio Bracciani dicendogli anche che ha l'obbligo morale di continuare a deliziarci, quindi di continuare a scrivere.